Benvenuti e ben ritrovati. Parliamo del lavarsi poco oggi. Detto così, incuriosisce evidentemente. Aggiungiamo però per non sprecare acqua e aiutare l'ambiente. Perché? Perché sembra essere questa la ennesima frontiera green cui ci obbligano questi nostri tristi tempi. Pensate un po', la guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina potrebbe incidere anche sulla nostra ingene personale, oltre che, come diceva Balanzone, dentro le nostre scarselle. Allora, tra i sacrosanti suggerimenti per riferire l'energia, la vastoviglia e lavatrice a carico pieno, e poi il riscaldamento avvassato, e poi la sobrietà nel consumo di luce e gas, ho detto sacrosanti, si fa sempre più strada all'idea che bisogna lavarsi di meno. Voi che ne dite? E soprattutto i medici, gli specialisti che cosa dicono? Noi abbiamo interpellato uno dei massimi esperti, un'amica della nostra trasmissione e anche una vostra amica. Parliamo della professoressa Bianca Maria Piracini, direttrice Dermatologia IRPS Policlinico di Sant'Orso, la Dipartimento di Medicina Specialistica Diagnostica e Sperimentale Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Non so se mi spiego. Sigla e poi in compagnia della professoressa Piracini. Te subito ringraziamo, ben ritrovata professoressa, direttrice buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora sembra che, beh intanto, la cominciano a chiamare igiene etica, è già questo, siamo sulla etica finanziaria e adesso c'è anche l'igiene etica, insomma siamo abituati. Consisterebbe nel lavarsi poco per non sprecare acqua ed evitare dunque un impatto ambientale sull'ecosistema. Non è una cosa secondaria, lo comprendo bene ed è importante sentire il parere di una vera esperta. Lei che ne pensa? Allora penso che si possa sicuramente fare qualcosa. Ci ho pensato, parliamo di, della persone normali che non hanno particolari patologie. Solitamente c'è l'uso, anche soprattutto nei giovani, di svegliarsi e fare la doccia al mattino appena svegli. Questa è un'abitudine che sicuramente serve anche per svegliarsi, per dare inizio alla giornata, ma che probabilmente si potrebbe ridurre, ridurre di frequenza e ridurre di intensità. Cosa vuol dire? Ci sono delle persone che passano mezz'ora sotto la doccia a cercare di svegliarsi. Se la doccia è del tutto inevitabile, andiamo a ridurre il tempo di durata e facciamola durare tre minuti. Se riusciamo addirittura a evitarlo, facciamo la doccia un giorno sì, un giorno no. Perché? Perché non è che tutta la pelle debba essere lavata di continuo. Le pieghe sicuramente hanno bisogno di una detersione frequente, ma le braccia e le gambe, che sono zone a bassa secrezione sebacea, non hanno necessità di una doccia tutti i giorni. Per cui potremmo distinguere il giorno, le due volte alla settimana che facciamo la doccia in tutto il corpo e gli altri giorni che ci laviamo, come si dice, a pezzettini. Poi ci sono delle zone particolari. Entriamo nel merito tra poco. Mi piace l'approccio che ha dato. Per completare la cornice diciamo che fino a ieri era una moda in America, i Brad Pitt e gli altri in Africa vanno da tempo, adesso sta diventando una necessità. Molti italiani però, e alcuni ci hanno anche scritto, dicono ma come? La igiene era una conquista dei nostri tempi. Ora perché ce la togliete? Lei ci sta incamminando verso una strada di mezzo, mi pare, di aver capito. Lavarsi sì, ma lavarsi in un certo modo. Allora, chi troppo, chi troppo poco? Qual è la vera via di mezzo quindi? E quindi può proseguire la sua disamina del corpo? Allora, la mia via di mezzo è una via di mezzo ecologica e dovuta ai tempi, ovvero non è che far la doccia tutti i giorni fa male. Ma se in questo momento dobbiamo risparmiare l'acqua, certamente lesinare un po' di più con le docce può essere una soluzione economica e non dannosa per il nostro corpo. Poi le pieghe, come dicevo prima, hanno bisogno di essere lavate e la seconda cosa da fare, soprattutto i giovani, io vedo che stanno veramente delle ore sotto la doccia. Quindi anche questa iniziale parsimonia che tanti i nostri genitori avevano, ma le nuove generazioni non conoscono, bisognerebbe che entrasse un po' nel mondo comune di tutti i giovani, che non è che si sta sotto la doccia, si cantano dieci canzoni, si guardano i film da sotto la doccia. Quindi iniziare a concepirla come uno svago che però deve essere un pochettino contingentato. Giustissimo, pulizia della pelle. Ecco, perché comunque è bene, ecco lo spieghi questo, non esagerare comunque nella pulizia della pelle. Allora, ci sono alcune zone che vanno deterse, il cuoio capelluto, le mani e le pieghe. Perché? Le mani perché sono a contatto continuamente con tutte le superfici e l'ambiente e quindi è ovvio che poi con le mani noi ci tocchiamo, mettiamo le mani in bocca e quindi l'igiene, l'abbiamo sentita soprattutto in tutti questi periodi di Covid, con tutti questi igienizzanti per le mani, l'igiene delle mani è importante. Le pieghe, con le pieghe io intendo le pieghe inguinali, le pieghe ascellari, sono zone con una grandissima componente ghiandolare e sono ghiandole che producono sebo e producono sudore, per cui sono quelle che vanno più deterse come pieghe sia perché sono zone umide e sono zone in cui se non viene fatta una detersione frequente cambia un po' il microbioma, cioè tutta la componente dei microrganismi che proliferano in queste zone e possono dare delle infiammazioni cutanee oppure per prima cosa un cattivo odore, per cui diciamo che la detersione delle pieghe è fondamentale per questi motivi. Braccio, ginocchia, gambe non hanno questa grande necessità di essere detersi, anzi essendo zone con poca componente ghiandolare e sebacea, vanno facilmente incontro a una secchezza cutanea e quindi possiamo benissimo lasciarle stare in questo periodo. L'igiene qui non è necessariamente quotidiana. Un altro discorso? Prego, prego. Scusi, no no, vada pure. Dicevo che un'attenzione eccessiva, ho letto, per la pulizia può addirittura nuocere alla pelle e qua potremmo entrare nel merito anche della flora batterica, che so che è un tema importante. Sì, la flora batterica deve rimanere, è una flora microbica perché non sono solamente batterie, il microbioma si chiama adesso, cioè tutto l'insieme di microrganismi che vivono in un ambiente e che servono anche per proteggerci da altre infezioni e servono comunque per il metabolismo della nostra acute. Per cui una acute sterile non è una acute sana. Quindi il rispetto del microbioma, che vuol dire detergere sì, ma non in un modo eccessivamente aggressivo, è la scelta migliore. Questo ovviamente è riferito a persone che non hanno dei bisogni particolari perché non hanno patologie cutanee che invece hanno delle richieste igieniche diverse. Quindi nella vita normale lasciamo stare un po' il nostro microbioma, non portiamocelo via tutti i giorni. Perché esiste allora, se ho capito bene anche, esistono i microorganismi buoni per far capire alle persone. Senta, i rischi di una pulizia eccessiva, quali sarebbero? Beh, diciamo che una detersione eccessiva o con... Ecco, speriamo che riprenda subito per bene il collegamento. Al momento, dottoressa... L'uso di detergenti non idonei porta a una sedia anche che sono un segno di secchezza ed è una cute che non è protetta perché noi abbiamo un film idrolipidico di superficie che è come un involucro sottile, trasparente, che protegge la nostra pelle e si produce tutti i giorni. Se noi lo asportiamo in un modo eccessivo, abbiamo una pelle poco resistente a traumi chimici, fisici e biologici a cui siamo sottoposti continuamente. Tra l'altro, proprio la pandemia ci ha educati anche, sì, a lavare le mani, eccetera, però voi per primi, gli specialisti ci dicevano, più ci si lava, attenzione, perché più si altera la natura strutturale della pelle, quindi attenzione con i disinfettanti portateli con il sapone che si usa per lavarsi le mani. E' un'attenzione che abbiamo imparato un poco a conoscere. Vale tutto questo, ecco, perché non vorrei che dimenticassimo l'ambiente in cui si lavora, tutto ciò che stiamo dicendo vale anche per l'ambiente in cui operiamo, per l'ambiente domestico, che anch'esso deve essere in qualche modo igienicizzato. Anche lì dovremmo poter risparmiare, dottoressa. Sa che ho perso la sua voce? Ecco, allora, glielo ripeto, tutto ciò che stiamo dicendo può valere anche per l'ambiente in cui operiamo, perché se dobbiamo risparmiare acqua, tanto vale risparmiarla anche nell'ambito, nel contesto, nel set in cui noi siamo inseriti. Mi ha sentito, professoressa? Non l'ho capita, ma io dico un'altra cosa. Sì. Perché finisco il mio discorso sulla detersione. Sì. Perché non ho sentito la signora. Dica. Prego. Dicevo che abbiamo parlato di zone particolari come le pieghe, le mani, come lei diceva giustamente, abbiamo capito in questo periodo epidemico che lavarle molto e usare gli idenizzanti può portare comunque a una dermatite irritativa, quindi a una secchezza delle mani. Non ci dimentichiamo mai che in questi casi l'idratazione la dobbiamo portare con delle creme idratanti, quindi lavarle anche le mani, sì, ma senza esagerare. Una zona di cui non abbiamo parlato è il cuoio capelluto. Ecco, i capelli andrebbero lavati un pochettino di più. Quindi la doccia, abbiamo detto, due volte alla settimana, quelle due volte alla settimana laviamo anche i capelli, perché comunque una detersione serve, perché proprio a livello del cuoio capelluto il microbiome è particolarmente espresso e particolarmente vulnerabile alle modificazioni e quindi la detersione almeno due volte alla settimana ci serve a mantenere stabile l'equilibrio fra tutti questi microrganismi che ci colonizzano in un modo comunque benefico. Ovviamente le categorie degli sportivi, alcune patologie dermatologiche, hanno bisogno di una detersione più frequente, ma in condizioni normali questo è un po' il mio suggerimento. Allora, mi sente adesso, posso parlare, mi sente? Adesso la sento bene. Le pongo l'ultima domanda allora. Ci ha detto è bene che la doccia giornaliera va tenuta ben presente, non dilunghiamoci sotto l'acqua per non far seccare la pelle, questo ho capito dal suo ragionamento. C'è un altro aspetto ed è l'acqua calda, l'acqua troppo calda, che significa anche qua sprecare appunto dell'alimentazione che faccia il caldo e quindi il gas o l'elettricità. Allora, l'acqua troppo calda può far male più che bene? Ho letto che impoverirebbe la struttura idrolipidica della pelle, che è un'altra barriera molto importante mi parli di ricordare contro i microbi. Ecco, mi ha capito bene? Allora, la temperatura dell'acqua non è particolarmente dannosa, né in senso di acqua troppo calda o acqua troppo fredda. Quindi su quello secondo me non dobbiamo fare tante differenze. Di solito l'ultimo risciacquo con l'acqua fredda fa bene perché dà una vasocostrizione fa quello che si chiama massaggio vascolare. Secondo me ci sono delle piccole attenzioni che come quelle che ci insegnano sulla lavastoviglie eccetera, andrebbero dette a chi fa la doccia per esempio lavandosi i capelli e cioè chiudi l'acqua quando ti fai la schiuma e quindi lavi con lo shampoo la testa e poi la riapri per sciacquarsi e quindi non teniamo l'acqua facendola scorrere per tutto il periodo del lavaggio dei capelli ma la spegniamo quando sulla testa l'acqua non ci va e quindi piccole accortezze dove noi non usiamo un flusso continuo ma lo facciamo a momenti. Questo io lo vedo perché ho una figlia di 21 anni che sta a far la doccia per 20 minuti, guarda i film con l'acqua sempre corrente eccetera. Sicuramente è un grandissimo spreco che si può modificare con poche piccole accortezze. Si sentirebbe di dare un ultimo suggerimento che ci siamo dimenticati di dare? Secondo me dovremmo prendere veramente seriamente queste piccole lezioni che ci arrivano da tante fonti perché sicuramente in questo momento ce n'è bisogno ma anche per il futuro aiutare in un modo ecologico a sprecare l'acqua, a non utilizzare troppi detergenti che comunque vanno poi nei canali di scuola e quindi vanno a modificare anche quelli l'ambiente se partiamo adesso modifichiamo in un modo positivo tutte le nostre abitudini anche per il futuro. Mi pare corretto, saggio soprattutto ricordarlo. Ringrazio la professoressa Pieraccini che ricordo essere direttrice dermatologia policlinico Sant'Orsola siamo nell'ambito della grande università di Bologna le faccio complimenti per la sua attività quando si parla di capelli ci fossero novità sa che noi siamo sempre attenti alle richieste di dare corrette informazioni. Buon lavoro professoressa, a presto dunque. Grazie mille, buongiorno a tutti. Arrivederci anch'io, vi saluto amici, alla prossima immanchabilmente. Grazie mille, buongiorno a tutti.